La situazione è davvero esplosiva, rischia di paralizzarsi l'amministrazione della giustizia a nocere inferiore e processi importanti sono sul punto di essere interrotti per questioni burocratiche. L'allarme arriva direttamente dal Presidente del Tribunale, Catello Marano, che dice che entro metà 2012 saremo a quasi il meno 20% dell'organico dei giudici, con il rischio di un ulteriore forte decremento del personale amministrativo, con circa nove tra dipendenti e funzionari pronti ad andare in pensione. Il calcolo è presto fatto, assegnati alla Corte d'Appello di Napoli sono in procinto di partire i giudici penali Fulio Cioffi e Cinzia Apicella. Ha presentato in stanza di trasferimento a Salerno anche un GIP, Vincenzo Ferrara, tre tessere in meno rispetto ad un organico, peraltro già sottomisura, sulla carta di 24 giudici, al quale vanno però sottratti due togati specializzati in amministrativo ed un sesto applicato al lavoro. In particolare, i trasferimenti dei giudici Cioffi e Apicella porterebbero alla scadenza dei termini alcuni processi importantissimi istruiti dall'antimafia. In primis, quello ad Alfonso Annunziata, più 15, invischiati in passato anche in traffico internazionale di droga, o quello a carico di Marco Bergamo, più 25, vicini al clanfezza di Pagani. Esempi citati dal presidente Marano al CSM in una lettera protocollata qualche giorno fa per chiedere un posticipo di almeno sei mesi al trasferimento dei due giudici, così da consentire loro di chiudere almeno i due processi citati e di accelerare al contempo i tempi della loro sostituzione, magari con un intervento straordinario in applicazione extra distrettuale, possibile e previsto dalla legge, da parte della Corte d'Appello di Salerno. Allora, la prima cosa che verrà fatta è una richiesta di pubblicazione straordinaria dei posti vacanti, richiesta che viene fatta al Consiglio Superiore della Magistratura. E quindi noi ci auguriamo che il Consiglio Superiore della Magistratura accolga questa richiesta di pubblicazione straordinaria di questi posti vacanti e sensibilizzata pure dal Consiglio dell'Ordine e dalla Camera Penale possa pubblicare questi quattro posti vacanti nel mese di giugno, il che permetterebbe naturalmente che entro certi limiti sia pure ragionevole, insomma questi posti possono essere coperti nel giro di 9-10 mesi.